Mi ha puntato una pistola carica alla testa. Questa la testimonianza shock fatta ieri in aula in tribunale a Lucca da Sabrina Landucci, ex moglie di Mario Cipollini, al processo che vede il campione di ciclismo accusato di stalking, maltrattamenti e lesioni verso la donna e anche per minacce al suo nuovo compagno, Silvio Giusti. La deposizione della donna, riportata oggi da alcuni quotidiani, si è protratta per circa tre ore l'episodio della pistola. Risalirebbe a prima del 2012, quando era ancora sposata a Cipollini. Secondo quanto raccontato da Landucci, tutto sarebbe avvenuto al termine di un'accesa discussione. Non ne avrebbe parlato prima di ieri perché ha detto, me ne sono sempre vergognata. Il processo a Cipollini, assente ieri in aula, riprenderà il 4 dicembre.